Le mucche sul monte Albo Siamo a Siniscola e saliremo sul monte Albo Poi arriviamo in alto Percorriamo la strada Ci fermiamo per un po' Adesso ripartiamo per andare verso un ristorante qui vicino Mentre andiamo troviamo queste mucche sulla strada Ciao Poi arriviamo a questo ristorante E ci fermiamo per un po' Adesso ripartiamo per tornare alla fontana Sade e ritroviamo altre mucche sulle strade Sade e ritroviamo per un po' Ecco siamo tornati all'area della fontana Sade Ecco siamo tornati all'area della fontana Sade Molto belle Sade e ritroviamo per un po' 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 Grazie a tutti.